Musica Rimborsi a taglio ritardato, i partiti rimandano tutto dopo le elezioni, mentre salgono i toni e le polemiche. Sequestro Romano Lombardia, era il debitore di 1000 euro, l'uomo asserraiatosi dentro l'agenzia delle entrate. Artigiani e industria in crisi, l'Union Camere di Milano denuncia vistosi cali sia nella produzione che negli occupati. Imo e 730 istruzioni per l'uso, un piccolo contributo orientativo per non smarrirsi nelle carte bollate. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con la politica, gli scandali non spingono i partiti a tagliare i loro rimborsi. Tutto rimandato e dopo le amministrative, intanto i soldi continuano ad arrivare. A tre mesi del caso Luigi Lusi è arrivata la richiesta di arresto per il senatore ed ex tesoriere della Margherita, accusato di aver saccheggiato i fondi del movimento che fu di Rutelli. I partiti non hanno ancora trovato comunque nuove regole, subito le avevano promesse, per i tagli ai rimborsi elettorali. Denaro pubblico che a leggere gli atti depositati presso le procure italiane servivano a soddisfare esigenze dei singoli. Lusi avrebbe utilizzato i soldi anche per pagare il proprio pranzo annunziale. Oltre alla vicenda del senatore, a questo punto ex di tutto, c'è quella che investe la Lega e ancora una volta lambisce Renzo Bossi. Gli inquirenti hanno cercato e cercano di chiarire se siano state utilizzate risorse provenienti dal pubblico per pagare le reti universitarie all'Ateneo Albanese dove Bossi Junior, un esempio di fuga all'estero dei nostri migliori cervelli, ha ottenuto una laurea con 29 esami in un anno. Ciò nonostante, le forze politiche restano alla palo e non trovano un'intesa. Il PD ha detto che bisogna dimezzare l'ammontare del finanziamento, ma nel frattempo i soldi continuano ad arrivare anche ai partiti estinti. A marzo la stessa Margherita ha incassato e girato all'ulivo oltre 257 mila euro dei rimborsi del 2006. 420 mila euro sono arrivati ai DS e 100 mila a Forza Italia. In questo quadro di mancata lotta agli sprechi si inserisce la regione toscana, togliendo le vetture blu dell'autoparco. Ho deciso di sostituire la Mercedes su cui ha viaggiato Martini e su cui sto viaggiando io, vendendo tre auto usate della regione e comprare una Punto che è l'auto più popolare. L'auto più venduta in Italia è la Punto e quindi la regione toscana vuole viaggiare su un mezzo del popolo. Noi vogliamo essere una regione che assume gli stessi comportamenti che ha il popolo della regione toscana. E il sequestratore di Romano di Lombardia doveva 1000 euro e accusato di sequestro di persona. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti. Elogio per il brigadiere Mediatore. Aveva un fucile a pompa e due pistole cariche, un coltello di circa 10 centimetri e un centinaio di pallottole. E' questo il piccolo arsenale che Luigi Martinelli aveva con sé ieri quando è entrato nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia. Gli inquirenti hanno confermato che l'uomo ha sparato un solo colpo con il fucile che aveva nascosto sotto il giubbotto mentre tutte le altre armi erano dentro ad uno zainetto di colore mimetico. Il procuratore di Bergamo, Massimo Meroni, ha detto che Martinelli aveva un debito di 1000 euro e che ciò non rappresentava una situazione critica. L'accusa nei confronti dell'uomo è di sequestro di persona. Il vicebrigadiere Roberto Lorini, il sottufficiale dei Carabinieri che ha risolto il caso, ha ricordato che in quei momenti Martinelli era una persona molto arrabbiata e di aver avuto paura. C'era da aspettarselo. Anche Union Camere di Milano fornisce dati preoccupanti per il lavoro degli artigiani e dei piccoli industriali. I dettagli nel servizio. Il primo trimestre 2012 registra per la produzione industriale una variazione negativa sia del dato congiunturale, meno 0,7%, che del dato tendenziale, meno 2,8%. Un quadro piuttosto negativo dell'industria e dell'artigianato Lombardi è quello che è stato presentato questa mattina alla sede di Union Camere di Milano. I dati non sono, come ci si aspettava, positivi. C'è una diminuzione della produzione industriale, dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. C'è una riduzione del fatturato, c'è un aumento della disoccupazione. L'unico dato positivo è un incremento dell'export, che sta a significare che il mondo economico della nostra regione deve sempre più guardare la dimensione internazionale se vuole continuare a contare nel nostro paese ed in Europa. Questo dato, cioè il dato di diminuzione della produzione del fatturato, si incide sull'occupazione in maniera sfasata. Quindi è ancora presto. Quindi sostanzialmente rispetto al trimestre precedente è sostanzialmente stabile, uguale a quella dei mesi precedenti. Indubbiamente c'è stato invece un ricorso molto più, molto forte, nell'ordine del 30% di crescita delle ore di cassa integrazione ordinaria, che vuol dire proprio la mancanza di ordine o di produzione, come dicevamo prima. Le previsioni sono per il 2012 di una recessione dell'economia sostanzialmente simile a quella nazionale, lievemente migliore, di una ripresa lenta ma comunque positiva per il 2013, invece di una crescita più forte per il 2014. Quello che si chiede è una vicinanza delle istituzioni al mondo delle imprese. Bisogna affiancare alla politica del rigore che il governo sta portando avanti doverosamente per placare i rischi di una crisi finanziaria che potrebbe coinvolgere in marina irreparabile il sistema economico del nostro paese con una politica di sostegno alla crescita. La strada è molto stretta, però bisogna cercare di trovare il modo di percorrerla. Modello 730 e IMU sarà dura a pagare, ma anche di stricarsi all'interno del labirinto burocratico. Ecco alcuni utili suggerimenti. Tra 730 e IMU il mese di giugno rappresenterà un costo elevato per molti italiani. Ed il tempo stringe, chi consegna il 730 al proprio sostituto d'imposta avrà tempo fino al 16 maggio e non più fino al 2 come previsto inizialmente. Analogamente, chi consegna il modulo 730 ad un CAF, un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato potrà farlo fino al 20 giugno e non più fino al 31 maggio. Ma come fare? Due sono le modalità. Una è quella di predisporla autonomamente, quindi il contribuente che è in grado di indicare correttamente i propri redditi, comprensivi eventualmente di fabbricati e tutti gli oneri, la possibilità di indicarli ed entrarli in indicazione, può procedere alla compilazione autonoma e questa compilazione su modelli predisposti dal Ministero può essere presentata a un CAF, a un centro di assistenza fiscale, oppure chiedere direttamente l'assistenza a un CAF o a un professionista per la redazione del suo modello 730. Certo è che l'imposta municipale unica, cioè l'IMU, ha all'orizzonte la prima data, cioè l'acconto del 15 giugno. Si tratta del 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille sulle seconde e dà la facoltà al Governo di comunicare entro fine luglio eventuali modifiche sulla determinazione dell'imposta per il pagamento del saldo. Dal Ministero del Tesoro intanto rassicurano sull'entità dell'esborso e fanno sapere che il 30% dei proprietari di prime case sarà esente da l'IMU, mentre il restante 70% pagherà in media 200 euro. Di fatto questo meccanismo è un meccanismo nuovo che allo stato attuale sta creando qualche difficoltà, soprattutto in merito alla possibilità di consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti. Allo stato attuale, pur essendo stati pubblicati i codici tributo in merito alla compilazione, non c'è la possibilità di avere la compilazione stessa in considerazione del fatto che siamo in attesa della pubblicazione dell'emendamento che l'esecutivo ha previsto in merito proprio al pagamento, alla possibilità di rateizzazione dell'IMU sulle prime case. Ma come fanno i comuni mortali a orientarsi tra i meandri dei codicilli e delle note a piedi pagina? Adesso penso che il contribuente italiano è costretto comunque ad affidarsi dagli intermediari. Noi di questo non siamo felici, anche se noi siamo degli intermediari, perché, ripeto ancora una volta, noi dobbiamo arrivare a un fisco a cui il contribuente deve fare da solo. Gli adempimenti devono essere possibilmente aboliti. Sono troppi adempimenti a carico anche degli intermediari. Quando il legislatore fa delle leggi, innanzitutto forse si dovrebbe consultare con coloro che in effetti poi da appuntista pratico aiutano i contribuenti a svolgere quel compito. Food Interativo abbiamo intitolato. Si tratta di due settimane all'insegna di appuntamenti legati all'enogastronomia. Quasi 200 gli appuntamenti lungo le vie di Milano. Dal 19 al 27 maggio le strade milanesi accoglieranno la Milano Food Week 2012, una settimana dedicata all'enogastronomia con più di 200 appuntamenti in calendario. Più ricca di quelle degli anni precedenti, è una manifestazione che matura, arriva al quarto anno e ci arriva con tanti contenuti in più, ma soprattutto con un coinvolgimento sempre più forte del pubblico. Prova ne sia il fatto che ci sono sempre più manifestazioni nei quali chiamiamo veramente il pubblico a partecipare direttamente e a impiegarsi in attività che vanno dalla cucina alla degustazione. La Public Kitchen, Piazza San Babila, sarà un'installazione, una cucina temporanea inserita all'interno di un container, nella quale ci saranno delle performance che sarà proprio il pubblico chiamato a fare, avranno la possibilità di loggarsi sul nostro sito milanofoodweek.com e di avere un'ora di show cooking nel quale presentare la propria ricetta. Questo show cooking verrà filmato e poi diventerà un video viral per il web. Quindi grande coinvolgimento del pubblico e poi ci saranno tante attività che comunque il pubblico lo coinvolgeranno, magari anche meno direttamente, è il caso di Bottiglie Aperte, il nostro wine show alla prima edizione, quest'anno a Palazzo Giure Consulti dal 25, 26 e 27 di maggio, quindi il secondo weekend di Milano Food Week, in cui oltre 60 tra le migliori e più importanti aziende vinicole italiane saranno qui a risporre e a fare degustare i loro prodotti al pubblico consumatore. Molti i nomi dei grandi chef che parteciperanno alla manifestazione. Chef nazionali, grandi nomi della nostra Italia in cucina, a partire dal maestro Gualtiero Marchesi, Massimo Bottura, ma soprattutto il nostro Davide Oldani, che è chef testimonial della manifestazione. Davide è molto vicino all'ottica e all'etica anche di Milano Food Week, proprio perché con questo suo concetto di cucina pop, una cucina di alto livello ma per tutti, si avvicina proprio a questo concetto nostro di essere una manifestazione vicina alla gente e per il pubblico. Poste le grandi travi sulla Pede Montana, che collegherà molte infrastrutture tra est e ovest della Lombardia. Vediamo. La Pede Montana, l'autostrada più nuova d'Italia, incontra quella più vecchia del mondo, la 8 Milano Varese, costruita nel 1924. È stata infatti varata la prima trave del ponte di Cassano Magnaco che consentirà l'intersezione tra le due infrastrutture. Il viadotto fa parte dell'opera di scavalco della connessione tra l'autostrada Pede Montana e la 8, tra gli svincoli di Busto Arsizio e Gallarate. Le due travi da 400 tonnellate di peso per 60 metri sono state piazzate sulla cavalcavia. La Pede Montana, un'infrastruttura strategica del valore di oltre 4 miliardi di euro, è realizzata per circa l'80% in project financing e una cantiere che rispetterà le scadenze e che già nella prima tratta sarà utilizzabile entro il Natale del prossimo anno. Sulla A8 oggi sorge il chilometro zero di quest'opera che attraverserà tutte le aree più produttive della nostra regione, la Brianza, la provincia di Bergamo e anche questa parte della provincia di Varese. Un risultato che è stato possibile grazie al lavoro sinergico tra Regione Lombardia, le istituzioni del territorio e i tanti soggetti interessati che in questi anni si sono impegnati in oltre 197 riunioni, 33 politiche e 164 tecniche per un totale di 413 ore di lavoro. Lo svincolo di Cassano-Magnago costituisce l'estremità ovest dell'autostrada pedemontana e a semi quadrifoglio ed è composto da sei rampe che garantiscono i collegamenti della tratta A da Cassano-Magnago all'interconnessione con la A9 Milano-Como a Lomazzo con le direttrici per Milano-Varese e Malpensa. Con la realizzazione della cavalcavia si completa lo svincolo con la Milano-Laghi che si sviluppa per 70 chilometri verso est fino ad incontrare la A4 Milano-Venezia a Osio sotto dopo aver incrociato la A9 Milano-Como, la statale 36 ad Esio e la A51 tangenziale est a V-Mercate. Anche questa edizione del telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione.